Musica Benvenuti, benvenuti ad una nuova puntata del nostro magazine di informazione religiosa La Chiesa nella città Questa settimana vogliamo iniziare da un tema che coinvolge tutti Quello della salvaguardia del creato, dell'ambiente nel quale viviamo Tema che specialmente negli ultimi giorni ha avuto anche ricadute drammatiche con gli eventi in Sicilia Ne parliamo con l'ospite che è qui con noi, che saluto Che è il professor Mario Raimondi, docente di chimica fisica presso l'Università degli Studi di Milano Buongiorno professore La salvaguardia del creato è qualcosa, abbiamo detto, che ci coinvolge tutti Ma in modo particolare lei ritiene che anche come credenti abbia a che fare con la nostra testimonianza? Certamente, penso che sia indubbio che tutti come credenti o non credenti viviamo su questo pianeta Che dobbiamo condividere, vivere con i nostri conviventi E questo pianeta ci dobbiamo rendere conto che non ha delle risorse infinite a cui attingere per le nostre dissipazioni Quindi dobbiamo assolutamente concentrarci su questo problema Gliel'ho chiesto perché il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano Che raccoglie appunto le chiese presenti sul nostro territorio della Diocesi E' impegnato da tempo su questi temi E riflette sulla questione anche della giornata per il creato Che è stata approvata dalla CEI E ricorre proprio in questo momento dell'anno Come Consiglio delle Chiese Cristiane di cui lei fa parte, che cosa fate? Dunque, il Consiglio delle Chiese Cristiane di Milano cerca senz'altro di tenere viva questa Concentrandoci sulla questione della giornata del creato Di tenerla viva, di rinforzarla, di comunicarla Ma soprattutto vuole fare un ponte tra una giornata e l'altra Perché di giornata in un anno ce n'è una Ma l'anno è di 365 giorni Allora vorremmo far penetrare, aiutare Perché noi come Chiese non vogliamo incontrarci solo fra capi delle Chiese O rappresentanti delle Chiese Vogliamo portare il messaggio al popolo e alle nostre comunità Ecco, in una sorta di dialogo a distanza Noi abbiamo chiesto anche l'opinione di un cristiano che non è cattolico Valdese, che è il professor Sergio Brofferio Che insegna telecomunicazioni al Politecnico di Milano Abbiamo chiesto al suo collega Brofferio Qual è, secondo lui, l'emergenza più grave in questo momento per l'ambiente Ascoltiamolo insieme Ecco, io sono convinto che i cambiamenti climatici Siano la principale emergenza in questo momento Purtroppo non siamo ancora sicuri Quanto questi cambiamenti siano dovuti all'opera dell'uomo E quanto invece ad effetti naturali Però applicando il principio della massima prudenza Sta a noi combattere che questi cambiamenti climatici non diventino eccessivi Perché da essi dipende Anzitutto il fatto che popolazioni nelle zone più deboli del mondo Sono le prime a soffrire E poi anche le popolazioni nel mondo più avanzato Dovranno pagare dei costi sempre più forti Per mantenere un livello ambientale sufficiente Brofferio dice Emergenza, ma stiamo attenti Che il corno del problema è più ampio Coinvolgere la giustizia, la pace, è così? C'è un senso di responsabilità E di solidarietà Che deve coinvolgere non solo il presente Ma il futuro E sappiamo che essendo le risorse finite Questo è il concetto che dobbiamo far passare alla nostra gente Non infinite Quindi dobbiamo darci una misura E cercare di muoverci Per adottare uno stile di vita Che sia più sobrio Che sia più misurato Che sia più... E la cosa è possibile Nel concreto Che cosa può fare un cittadino Che abbia però anche una dirittura da credente? Sì Ma io penso che La prima cosa che tutti possiamo fare È di metterci bene in mente Che il dispendio delle risorse Che quando io lascio aperto Un rubinetto dell'acqua E vado a fare qualche cosa Oppure soprattutto se quest'acqua è calda E la lascio andare tranquillamente Compio Devo rendermi conto Che mi macchio di un qualcosa Dei confronti dei miei confratelli Di un peccato Potremmo dirlo anche così Se vogliamo usare questa parola Peccato Ecco sentiamo cosa Broferio ancora Ci ha detto Sulla responsabilità Che deve coinvolgere tutti Se vogliamo partire proprio Dai cambiamenti climatici A causa della diffusione della povertà Dell'inaridimento di certe zone Queste porteranno a un aumento della povertà E quindi sicuramente a delle maggiori lotte di tipo ambientale Per poter conservare un livello di esistenza accettabile In particolare io direi che assieme al cambiamento climatico Anche il problema dell'energia è molto importante In quanto che ormai la nostra civiltà Senza energia non può più andare avanti Perché forse in modo un po' dirompente Si ritorna alla schiavitù quando non c'è più energia Possiamo dire che in considerazione del fatto Che le assemblee ecumeniche Dalla prima a Basilea nell'89 A Sibiu l'ultima Hanno messo a tema la pace nella giustizia La salvaguardia del creato Questo può essere anche un cammino Un po' particolare per parlarsi tra cristiani Certamente Certamente L'argomento del creato Il tema della cura del creato È un tema che nasce di per sé Diciamo ecumenico Ma di più Addirittura interreligioso Perché non c'è nessuna religione Che non abbia in cuore Il rispetto e la cura Che abbia sensibilità per queste tematiche Qui partiamo Un terreno assolutamente comune Bello Il patriarca Bartolomeo Lo chiamano il patriarca verde I nostri papi hanno espresso Hanno fatto dei pronunciamenti Estremamente interessanti Le chiese protestanti sono impegnate Da sempre Anche la chiesa di Milano Anche la chiesa di Milano Allora possiamo dire sinteticamente Cristiani e ambientalisti Termini che vanno bene insieme Sì Ecco L'unica cosa è che Bisognerebbe sempre chiarire un po' Come vengono recepite Certe Certe espressioni L'espressione ambientalista Ha un connotato Estremamente positivo Che è uno di quello Che tiene cura dell'ambiente E poi c'è la storia Di quello che dice sempre di no A ogni passo La gente lo recepisce più In questo senso Bisogna fare un po' di strada insieme Per spiegarci E spiegare alla gente Va bene Abbiamo parlato di salvaguardia del creato Perché siamo nel momento Anche della giornata In cui si parla di questo tema Con il professor Mario Raimondi Che io ringrazio e saluto Che è docente Lo ricordo Presso l'Università degli Studi di Milano Di chimica fisica Proseguiamo con la nostra puntata E cambiamo decisamente argomento Come sempre Nei giorni immediatamente successivi All'ordinazione diaconale Conferita in Duomo Dal Cardinale Tettamanzi Il 3 ottobre scorso Sono state rese note Le destinazioni E l'impegno Per i diaconi 2009 Durante un incontro Svolto sin curia Nel quale Ha rivolto alcune parole Anche il vicario generale Sua eccellenza Monsignor Carlo Maria Redaelli Noi abbiamo ascoltato Due diaconi Che diventeranno sacerdoti E un diacono permanente Lavoratori nella vigna del Signore Servi del suo progetto d'amore Portatori dell'annuncio più atteso Sono i diaconi Sia coloro che diventeranno sacerdoti Il prossimo 12 giugno Sia i permanenti 17 gli uni 7 gli altri A cui il vicario generale Nel momento dell'annuncio Delle destinazioni Ha rivolto in curia La sua riflessione Dal titolo Con San Marco Alla scuola della chiesa di Antiochia Dove quest'ultima Rimane modello Per la nostra diocesi Per imparare a fare insieme Usando lo slogan Bello e persuasivo Scelto dal cardinale Tettamanzi In questo anno pastorale Lavorare insieme Con un discernimento preciso Della realtà pastorale In cui si è impegnati Sapendo inserirsi in essa Con umiltà Sostenuti dallo Spirito Santo Che illumina e guida Quello stile diaconale Indicato dall'arcivescovo A chi continuerà Quale diacono permanente E ai diaconi Futuri sacerdoti Chiamati a operare Per la maggior parte Nelle comunità E unità pastorali Un momento dunque Importantissimo Per la vita Della chiesa ambrosiana A cui infatti Il portale della diocesi Dedica ampi approfondimenti Con l'elenco integrale Delle singole destinazioni Così come Milano 7 Il dorso di avvenire Oggi in edicola L'emozione più grande È quella di sapere Che il signore ti ha chiamato Ma la risposta più bella Che ho dato Anche in questi giorni Di esercizi Proprio quello di dire Nelle tue mani È la mia vita Che è un po' anche Il nostro motto di classe E sono le uniche parole Che ho continuato a ripetere Anche oggi Quando ero sdraiato Durante le litanie Beh direi che per me Rappresenta Un grande dono E una grande grazia Che il signore Ha voluto farmi Nel darmi una vita bella Lunga Variegata E mettermi di fronte Ora Alla Presa di possesso Delle responsabilità Che nella mia vita Ho maturato Direi che questo È il grosso dono Che mi ha fatto Prendi il tesoro Che ti ho dato Mettilo in pratica Uno stile diaconale Preciso Essere un buon cristiano Nel nome del battesimo Gratuitamente vi è stato donato E gratuitamente vi donate Sì Sì proprio quello È il nostro motto È difficile essere un diacono permanente Su un luogo di lavoro Ma nel mio caso no Perché sono un libero professionista Nel senso che sono un agricoltore Mentre per altri può darsi che a livello di fabbrica Sì Fin qui i nostri emozionati diaconi Noi continuiamo con una segnalazione Perché il 12 e 13 di ottobre Presso il collegio dei padri oblati Missionari di Ro In corso Europa 228 Si terrà la riunione della conferenza episcopale Lombarda Tutti gli approfondimenti sul portale della diocesi www.chiesadimilano.it Ben ritrovati Apriamo questa nostra seconda parte della trasmissione Come ormai consuetudine Con giornali e giornalisti Ottobre è il mese missionario Noi siamo andati presso la redazione di Mondo e Missione Mensile dedicato appunto al Mondo Missionario Ne abbiamo parlato col direttore Gerolamo Fazzini Ottobre è un mese focalizzato sulla missione Mondo e Missione appunto cosa propone per questo numero? Ma in questo mese sicuramente è il servizio speciale Dedicato al Sinodo dell'Africa Abbiamo pensato appunto di focalizzare su questo tema Perché per la Chiesa Africana è un evento molto importante Il secondo Sinodo ma soprattutto è importante il tema La riconciliazione e la pace In un continente che vede ancora molti paesi segnati dalle ferite della guerra E vede peraltro anche la Chiesa protagonista di un cammino di pace Ma la Chiesa a sua volta ha bisogno di creare delle condizioni di pace Di fraternità, di riconciliazione al suo interno Perché ha problemi di divisioni etniche Problemi di tensioni anche proprio dentro Nel corpo della Chiesa tra le file degli stessi credenti Quindi una Chiesa che è al tempo stesso motore di riconciliazione Ma chiamata a purificarsi Chiamata essa stessa a trovare riconciliazione al suo interno Più pagine, un dossier, un affresco sul secondo sinodo africano quindi Abbiamo fatto la scelta proprio di dar voce all'Africa Di avere voci che parlano da contesti diversi, di diversi paesi Ma che fossero tutti accomunati dall'essere in prima fila su questo tema, su questa frontiera insomma A chi si rivolge Mondo e Missione? Ma è una rivista che sicuramente si rivolge a chi non ha solo un generico interesse Per i paesi extraeuropei, per i temi dello sviluppo eccetera Ma vuole anche una conoscenza più partecipata, più diretta Non vuole solo informarsi ma vuole conoscere e condividere Quindi vuole accompagnare anche la vita concreta dei missionari Di quanti vivono nel sud del mondo Ma andando oltre un mero dato informativo Quindi è una rivista per tutte le persone Non solo per i preti, non solo per chi è impegnato nell'ambito missionario propriamente detto Ma tutte le persone che comunque in qualche modo vogliono mettersi in gioco E anche per questo che vi aprite alla multimedialità Esattamente abbiamo pensato proprio di inventare questo sito Che non è semplicemente la trasposizione sul web della rivista Cartacea Ma è uno strumento appunto anche questo per tutti Uno strumento di servizio per offrire possibilmente in tempo reale Notizie, approfondimenti sul sud del mondo Documenti e materiali che possono essere proprio utili Questa è un po' la caratteristica di questo sito La dimensione del servizio utili per i gruppi missionari Utili per il singolo che voglia documentarsi, approfondire, essere informato Utili per tutti coloro che non si accontentano della televisione o della lettura dei giornali L'indirizzo? www.missionline.org Vi aspettiamo Come certamente sapete Il 25 ottobre prossimo con una solenne celebrazione in Piazza del Duomo a Milano Verrà beatificato Don Carlo Gnocchi Si moltiplicano le iniziative in questi giorni di attesa Tra cui un convegno presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore Di cui vogliamo rendere conto Ma abbiamo anche pensato di chiedere al presidente della Fondazione Don Gnocchi Monsignor Angelo Bazzari Come vanno i preparativi per la beatificazione Vediamo La beatificazione di Don Carlo Gnocchi È per l'Università Cattolica del Sacro Cuore Motivo di gioia del tutto speciale All'Ateneo dei Cattolici italiani Venne infatti concesso il privilegio Di avere Don Carlo fra gli assistenti spirituali dei suoi studenti Fu un rapporto intenso Quello che legò la Cattolica Con il suo carismatico fondatore e rettore Padre Gemelli A Don Carlo Assistente spirituale dal 46 al 48 Un biennio tuttavia preceduto e seguito da incontri Scambi epistolari e intellettuali Tra gemelli convinto delle eccezionali qualità Del papà di Mutti Latini e appunto Don Gnocchi Anni ricordati nel convegno svoltosi nell'Ateneo E intitolato Amiamo di un amore geloso il nostro tempo Don Carlo Gnocchi e il 900 Qui hanno partecipato il rettore Lorenzo Ornaghi Monsignor Angelo Bazzari Presidente della Fondazione Don Carlo Gnocchi Studiosi, storici e Monsignor Sergio Lanza Assistente ecclesiastico generale dell'università Tutti concordi nel sottolineare il valore profetico Delle proposte pedagogiche del futuro beato E la sua profonda capacità di spendersi Per la gioventù e per un domani cristiano e civile Migliore di quel secolo ventesimo Del quale, pur amandolo, Don Gnocchi scriveva Così grande, così avvilito Così ricco e così disperato Così dinamico e così dolorante Mancano meno di 20 giorni Alla beatificazione di Don Carlo Come vanno i preparativi? I preparativi sono pesanti Sono anche molto complessi e articolati Però le assicuro che con i collaboratori Partecipiamo a questo comitato diocesano Di preparazione e di realizzazione dell'evento Però è talmente così Un dono di sovrabbondanza Che ci viene dato che anche il peso organizzativo Gli si danno le ali Per potere in qualche modo volare Stiamo facendo tutto questo In nome, in virtù di Don Gnocchi In nome di questa chiesa Che vogliamo servire In nome anche di una cittadinanza mondiale E italiana Tutto questo ci conforta Ci stimola, ci aiuta E nel frattempo Siamo contenti di poter avere Non solo più un potenziale Santo per cui pregare Ma avere un intercessore E un protettore Che pregherà per noi E ora ancora due segnalazioni Martedì 13 Dopodomani alle ore 9.30 Presso la sede dell'Università Cattolica In Via Nirone 15 a Milano Si terrà un convegno Dedicato a Giuseppe Lazzati Giornalista e direttore L'occasione è il centenario Naturalmente della nascita Di Giuseppe Lazzati Ma anche i 50 anni Dell'UXI Unione Cattolica della Stampa Italiana Tutti gli approfondimenti Sul portale dell'UXI www.uxilombardia.it E poi ancora Giovedì 15 ottobre Alle ore 21 Presso il Cinema Cristallo Di Via della Resistenza A Novate Milanese In provincia di Milano Avrà luogo un incontro Per il cinquantesimo della morte Di Don Primo Mazzolari Gli approfondimenti Su www.azionecattolicamilano.it E ora la rubrica Delle novità librarie Con Luca Frigerio Ecco un piccolo libro Che si presenta come una lettera Una lettera che il cardinale Dionigi Tettamanzi Rivolge innanzitutto Alle sorelle di vita consacrata Ma che è destinata Anche a tutti i fedeli Il maestro è qui E ti chiama È il titolo In questo volume Pubblicato dalla libreria Editrice Vaticana L'arcivesco di Milano Ci offre una meditazione A partire dal miracolo Della ressurrezione di Lazzaro Pagina dopo pagina Così guidato dal cardinal Tettamanzi Il lettore sentirà quasi Di essere anche lui Quel giorno a Betania Di fronte alla splendida rivelazione Del mistero di Gesù Arricchiscono il libro Alcuni testi Dei padri della chiesa Dio ha inventato l'umorismo Per salvare la tenerezza È il verso di una poesia Di Jan Wardowski Scrittore polacco Coetaneo di Papa Wojtyla Recentemente scomparso Poesie colme di tenerezza appunto Eppure forti Capaci di parlarci Dei dolori e delle gioie Di tutti i giorni Alla luce di una fede Vera e semplice Quella di Wardowski È infatti una delle voci poetiche Più intense del nostro tempo Anche se ancora poco nota in Italia Questa raccolta Edita da Marietti Viene dunque a colmare Una piccola grande lacuna Affrettiamoci ad amare Il titolo L'esortazione Il consiglio Di un amico poeta Madre Teresa di Calcutta È stata maestra di vita Per tutti coloro Che l'hanno incontrata E continua a esserlo Ancora oggi Per migliaia e migliaia Di persone In questo nuovo libro Pubblicato da San Paolo Cristina Siccardi Ci parla in particolar modo Degli anni giovanili Di Madre Teresa E della sua educazione cristiana Che avvenne proprio in famiglia Testimonianze e documenti Anche inediti Dai quali emerge la ricchezza Della spiritualità di questa donna Chiamata a portare il sorriso di Dio Fra i sofferenti E gli ultimi della terra Perché dalle tenebre In cui era calata la sua anima Usciva per gli altri Una luce intensa Trasfigurante Di se stessa infatti Madre Teresa diceva Di sangue sono albanese Per vocazione appartengo Al mondo intero Ma nel cuore Sono totalmente di Gesù Come sempre vogliamo concludere Con il Vangelo di oggi Che è quello Della settima domenica Dopo il martirio Del precursore Giovanni Battista Poi un breve commento Dal Vangelo secondo Matteo In quel tempo Il Signore Gesù Espose ai Suoi discepoli Un'altra parabola dicendo Il regno dei cieli È simile a un uomo Che ha seminato Del buon seme Nel suo campo Ma mentre tutti dormivano Venne il suo nemico Seminò della zizzania In mezzo al grano E se ne andò Quando poi lo stelo crebbe E fece frutto Spuntò anche la zizzania Allora I servi andarono Dal padrone di casa E gli dissero Signore Non hai seminato Del buon seme Nel tuo campo Da dove viene la zizzania Ed egli rispose loro Un nemico Ha fatto questo E i servi gli dissero Vuoi che andiamo A raccoglierla No Perché non succeda Che raccogliendo la zizzania Con essa sradicchiate Anche il grano Lasciate che l'una E l'altro Crescano insieme Fino alla mietitura E al momento Della mietitura Dirò ai mietitori Raccogliete prima La zizzania E legatela In fasci Per bruciarla Il grano invece Riponetelo Nel mio granaio Espose loro Un'altra parabola Dicendo Il regno dei cieli È simile A un granello di senape Che un uomo prese E seminò Nel suo campo Esso È il più piccolo Di tutti i semi Ma una volta cresciuto È più grande Delle altre piante Dell'orto E diventa un albero Tanto che gli uccelli Del cielo Vengono a fare il nido Tra i suoi rami Disse loro Un'altra parabola Il regno dei cieli È simile al lievito Che una donna Prese e mescolò In tre misure Di farina Finché non fu Tutta lievitata Tutte queste cose Gesù disse alle folle Con parabole E non parlava Ad esse Se non con parabole Perché si compisse Ciò che era stato detto Per mezzo del profeta Aprirò la mia bocca Con parabole Proclamerò cose nascoste Fin dalla fondazione Del mondo Poi Congedò la folla Ed entrò in casa I suoi discepoli Gli si avvicinarono Per dirgli Spiegaci la parabola Della zizzania Nel campo Ed egli rispose Colui che semina Il buon seme È il figlio dell'uomo Il campo È il mondo E il seme buono Sono i figli del regno La zizzania Sono i figli del maligno E il nemico Che l'ha seminata È il diavolo La mietitura È la fine del mondo E i mietitori Sono gli angeli Come dunque Si raccoglie la zizzania E la si brucia nel fuoco Così avverrà La fine del mondo Il figlio dell'uomo Manderà i suoi angeli I quali raccoglieranno Dal suo regno Tutti gli scandali E tutti quelli Che commettono iniquità E li getteranno Nella fornace ardente Dove sarà pianto E stridore di denti Allora i giusti Splenderanno come il sole Nel regno del padre loro Chi ha orecchi Ascolti Mi colpisce in questo brano Il fatto che i discepoli Chiedano spiegazioni Solo sulla parabola Della zizzania È il male che ci interroga Che ci colpisce appunto E il brano mi interpella Soprattutto come genitore E come educatore Io ho tre figli adolescenti E tante volte Mi sembra di vedere Crescere in loro Il grano E l'erbaccia Insieme E sarei tentata Di estirpare tutto Con divieti Punizioni Però mi sembra che Se questi sono necessari Ecco naturalmente Dobbiamo sempre Distinguere bene Il bene dal male Davanti a loro Mi pare che in questo brano Però il Signore Ci chieda soprattutto Di potenziare Il bene E poi di stare a guardare I risultati Secondo i suoi tempi In questo nostro tempo Così frenetico In cui vogliamo invece Avere subito Dei risultati positivi Anche perché Il grano E la zizzania Sono due erbe Che nel primo stadio Della crescita Sono molto simili E magari col tempo Quello che sembrava zizzania Potrebbe poi invece Essere grano Rivelarsi buono Papa Paolo VI Commentava questo brano Applicandolo Agli anni 70 Ai giovani Proprio Di quegli anni Del suo tempo Era un momento In cui c'era Il terrorismo La violenza E vedeva Prosperare La zizzania Appunto E diceva Che se noi adulti Dobbiamo avere La coscienza morale Integra E saper distinguere Con esattezza Il bene dal male Davanti ai giovani Tuttavia Soprattutto Dobbiamo coltivare La fede Fiducia In Dio Che ha una potenza Più grande Del male Ricordava anche Una frase Del suo predecessore Di Pio XII Il quale Diceva proprio In questo nostro tempo È la fiacchezza Dei buoni Che porta Le occasioni Di male E quindi L'umiltà Che ci viene Dall'essere Anche piccoli Come il granello Di senape O come La piccola La piccola quantità Di lievito Che c'è Che c'è Nella pasta Deve darci però Anche questa grande Questa grande fiducia Nella potenza Nella potenza Di Dio Papa Paolo VI Diceva proprio Che l'umiltà Dell'uomo È una risorsa Energetica Che deve essere Spesa Per portare Il mondo Ad essere salvato E non ad essere Condannato Bene Con il commento Al Vangelo Siamo giunti Al termine Della nostra puntata Però prima Come sempre Un aggiornamento Sul fondo di solidarietà Famiglia Lavoro Che ha raggiunto La cifra Di 5 milioni 250 mila euro E sono 2.300 I privati Che hanno Donato Le loro offerte Il modo per contribuire Se volete farlo Lo state vedendo In questo momento Bene Adesso È davvero tutto Io vi ricordo Che la chiesa Nella città Torna giovedì Alle 18.45 Che è sempre A vostra disposizione L'indirizzo Mail La chiesa Chiocciola Telenova.it Noi ci vediamo Domenica prossima Arrivederci Buon proseguimento Questo programma Vi è stato offerto Da Famiglia Cristiana Il settimanale Della famiglia Allora Sons